siano dato gesù cristo benvenuti sul mio blog walterson.it questo è un video che uscirà tutte le mattine dalle 8 dalle 9 alle 10 e sarà un video soltanto per ricordarvi dell'importanza di acquistare i libri cartacei prima che sia troppo tardi quindi l'escrizione vi lascio i link per questa pagina del mio blog dove potrete cliccare per acquistare o scaricare i libri io vi consiglio sempre il libro cartaceo del manuale della sopravvivenza della fine dei tempi dove sono raccolte tutte le piante medicinali date dal cielo all'uzio di maria insieme allo scapolare viola e insieme ai rifugi di preghiera che sono delle indicazioni che il cielo ha dato ad altri mistici come lo scapolare viola per trasformare la propria casa in un rifugio di preghiera in un cenacolo di preghiera e attraverso le scorte di cibo attraverso i sacramentali come lo scapolare viola dove gesù ha promesso a maria al suor maria giulia genni che coloro che avrebbero indossato lo scapolare indossato lo scapolare viola con la croce e la medaglia benedetta e avrebbero pregato con lo scapolare viola in riparazione della santissima trinità le loro case sarebbero state protette dai flagelli e dalla guerra troverete nel mio blog anche il libro della mia testimonianza e il libro sulla sull'avvertimento universale e il libro sull'inferno io vi consiglio soprattutto il libro sull'inferno è un libricino che ho realizzato e che costa veramente poco con il quale possiamo regalarlo e possiamo farlo conoscere ai nostri fratelli e sorelle soprattutto in questo periodo dove si possono fare tanti regali e il regalo più bello è far conoscere ai nostri fratelli e sorelle che fanno un cammino cristiano o si sono scordati di un cammino cristiano di questo libro meraviglioso che ci parla attraverso i santi e i mistici dell'esistenza dell'inferno io vi porto tutti nelle mie preghiere e come sempre iscrivetevi al mio canale fate conoscere questi video sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle in questo ultimo capitolo dell'introduzione nel libro di suor maria la test le straordinarie verità soprannotorali della mistica delle meraviglie ringraziamo la santissima trinità per il dono di questo di questo volume composto da 13 libri con l'introduzione e ci immergiamo illuminati dallo spirito santo nella lettura di questo quarto capitolo per concludere l'introduzione del libro intitolato dalle lettere di maria la test al direttore spirituale nella prima lettera al suo direttore spirituale dopo aver esposto a grandi linee il percorso della sua vita le sue occupazioni scrive devo confessare che il signore mi ha colmata di grazie nel sacramento dell'eucalistia si è rivelato a me nella realtà della sua carne divina mi ha fatto riposare al suo cuore a volte mi ha tenuta in ginocchio ai suoi piedi talora non mi ha permesso di avvicinarmi a lui ed anche mi ha liberato da nemici interiori la mia vita monsignore e suppongo come quella di tutte le anime una lotta quotidiana maria spiega al suo direttore come dopo tanto tempo ricorda le parole del salvatore gesù un giorno circa due anni fa gesù mi apparve mi disse figlia mia vieni mi avvicinai a lui teneva in mano un libro ed una scatola me li mostrò e mi disse voglio che tu conservi preziosamente il ricordo della mia parola e il buon effetto che ispira il libro conserva le parole che gli rivolgo non lo devi aprire senza mio permesso aprilora era scritto dalla prima all'ultima pagina lo chiusi subito questa scatola racchiude il profumo delle parole non l'aprirai senza permesso aprirò ora lo aprì e vedi dei fiori bellissimi a me sconosciuto sconosciuti spandevano un odore suave figlia mia disse il signore prendi più tardi ti saranno utili quando non mi ricordo ricordo a questi granai abbondanti tra di l'uomo c'è una distanza infinita ma anche una vicinanza ammirabile la bontà di dio il bisogno dell'uomo 23 dicembre 1843 con tutta la fiducia vengo a dirle ciò che ho provato un giorno lei ne penserà ciò che le pare giusto io considero l'espressione della volontà di dio il suo giudizio e mi sottometterò umilmente a questo stavo davanti al santissimo sacramento mi sembrò di vedere nostro signore sotto un aspetto sensibile benché con gli occhi dell'anima egli mi rivolse queste parole figlia mia coraggio sono tuo padre ti proteggerò e ti sosterrò sì maria ti condurrò come per mano laddove voglio sì figlia mia tu sarai il luogo del mio riposo voglio abitare nel tuo cuore come in una dimora piena di delizie ti ho scelta come serva come sposa come interprete delle mie parole alle anime mia voce nel deserto nel mondo rallegrati la tua bocca diventerà una voce eloquente che dalla solitudine che gerai invitando le anime pie a glorificare il mio nome ti destino a diventare religiosa del sacro cuore tutte le difficoltà che sembreranno intralciare questa vocazione spariranno ecco le parole che rivolgerò alle superiora delle religiose del sacro cuore a parigi figlia mia ho rivolto in voi il mio sguardo di compiacenza io il signore tre volte sante vi ho colmate di grazie come segno di riconoscenza vi chiedo la sottomissione alla mia volontà e a un cuore docide nel ricevere le parole che vi rivolge a colui che chiamate vostro salvatore oggi vi voglio parlare della vostra comunità ci sono con voi e sotto la vostra amministrazione anime pie e fervose veramente grandi ai miei occhi edificano e diffondono il profumo della mia grazia ve ne sono altre che non profittano come dovrebbero delle buone ispirazioni degli esempi che hanno sotto gli occhi né delle cure che ricevono compiono i doveri della regola obbediscono ai comandi ma c'è in loro un fondo di pigrizia e trascuratezza che può diventare pericoloso fate attenzione che nessuno accada in questo stato che le meriterebbe di essere rifiutati da me le riconoscerete dal modo come obbediscono e dalle prove cui le sottometterete osservate per qualche tempo scoprirete la verità delle mie parole fate attenzione che questa colpa non si introduca nella vostra casa conservate soprattutto la pace l'armonia la concordia la carità il vostro posto è elevato ma non dimenticate che comporta dei doveri voglio comunicarvi inoltre una cosa che ignorate e chi vi interesserà ascoltate con attenzione nella diocesi da air c'è uno è giovane dall'apparenza ordinaria semplice comune senza nulla di speciale con un'anima che ho colmato di grazie insigni un'anima cui voglio bene la sua famiglia è povera ma fedele alla mia legge ho scelto questa giovane da tutta l'eternità per manifestare in lei la mia misericordia e il mio amore quando per la prima volta ho ricevuto la comunione le ho fatto provare la sovietà della mia presenza e il suo cuore non ne perderà mai ricordo dall'età di 13 anni l'ho attirata a me con più forza e ho fatto bere la coppa dell'amarezza per preparare e modellare quel cuore di cui volevo fare un vaso di elezione in cui si sarebbe rivelata la potenza della mia grazia dopo molti anni passati nelle lacrime lotte pene aridità ho dissipato le tenebre dal suo spirito con la luce della mia parola e fondendo nel suo cuore la dolcezza delle consolazioni che inebbero di felicità ho gettato io stesso su questa giovane terra il seme della mia parola ho istruito in maniera elevata e profonda nella morale nella religione porterà frutto al centupro questa prediletta del signore si chiama maria e lei fondendo ella diffidando di ciò che provava e non sapendo donde le venivano le conoscenze che riceveva chiaramente e temendo che fosse un effetto della sua immaginazione o di tranelli del demonio raccontò al direttore ciò che provava egli la tranquillizzò dicendo che non poteva venire dal demonio e la continuò ad ascoltare la mia parola a 19 anni permisi che cambiarsi direttore non cade nelle mani di un uomo debole o impressionabile ma riservato riflessivo attento a osservare da vicino per non disorientare le persone che guida fin dall'inizio la vita di maria lo ha stupito l'ha osservata nelle parole e nelle confessioni nel suo contegno in chiesa nella nell'abbigliamento ho riconosciuto che ha qualcosa di misterioso un giorno mi ha detto figlia mia vi ordino di scrivere tutto quello che avete provato e proverete perché io posso indicarvi da che fonte vengono le parole che intendete maria scritto tutto per obbedienza i suoi scritti saranno custoditi preziosamente e la gloria che daranno a dio quando saranno conosciuti ricorderà tutta sulla congregazione del sacro cuore infatti io destino maria a essere religiosa del sacro cuore provatela in tutti i modi quanto e come vorrete se obbedisce e si sottomette se la vedete contenta e soddisfatta se niente le ripugna sarete convinto che una buona vocazione ricevetela nonostante la sua povertà mi compenserà col suo lavoro la sua condotta e la sua pietà dei sacrifici che farete per lei senza esigere nulla dalla sua famiglia che non può sacrificarsi per lei vi permetto di mandare maria via se non ha le qualità che ho detto non trascurate di eseguire ciò che ho detto nei riguardi della vostra congregazione e di maria attirireste su di voi la mia collera andate in pace vi benedico poi il signore giunse maria guardati bene dal nascondere qualcosa al tuo direttore gli renderò il centupro abbandonati a lui 27 aprile 1844 preferisco essere sorella osserva della vostra casa nel sacro cuore che religiosa in qualunque altro convento cosa pensa e dice maria di se stessa gloria l'ode amore per riconoscenza siano rese per sempre a gesù nel santissimo sacramento dell'altare al padre lo spirito santo nei secoli dei secoli amen io sono un umile e povera figlia di campagna e non so altro che quel che mia madre mi ha insegnato tutta la mia scienza nell'ordine della natura consiste nel saper leggere scrivere cucire e tessere sono anche una grande peccatrice di cui il signore ha avuto pietà alla maria catalani palermo 2015 sia notato gesù cristo nel cuore immacolato di maria abbiamo letto le parole di gesù alla comunità del sacro cuore e di come gesù ci tenga a tutte le sue comunità sulla terra di come tutte osservano la dottrina allora abbiamo concluso il quarto capitolo con questa lettera con queste due lettere con l'introduzione di suor maria la test della sua vita e delle meraviglie che gesù è adorato nei libri che andremo a leggere andremo nel dettaglio in queste meraviglie e ringraziamo il signore perché questi scritti possono essere conosciuti affinché tutte queste pagine possono essere lette fatte conoscere per far innamorare ancora di più le anime del sacro cuore a digizuale a digizuale a digizuale a digizuale a a